e quindi devo riostare ma dai non se l'ha capito garoni garoni oddio mio dio non è facile quel volante ti dà 15 secondi per scegliere il personaggio infatti te l'ho detto ieri madonna devi abbassare un po' il volume frizioni un pochino invitate invitate è un parolone qua problemi tecnici oh basta che c'è qualcosa che si nasconde nel muro che fa concilia allora vediamo un po' questa simpatica garetta con salto allora vedo scaricare doki doki che ora lo scarichi in 15 secondi quella ci ha scaccato e poi vediamo su dentro cinque last round vai pronti all'invito allora l'invito è l'alto di rios ma oggi che mi funzionano le frecce va già meglio il counter scanno le stai prendendo? no la prendo la do ci siamo tutti? siete pronti? siete caldi? ecco con la tastiera giochi ok la dico wolf con la tastiera giochi? io sto giocando con la tastiera c'era ho installato l'autolink per moddare le skin dei personaggi e ieri sera mi dava dei problemi e dovevo per forza usare la levetta che in sto gioco non è il massimo per fare l'account siamo tutti live in streaming incredibile che bello possiamo tutti dire le calzate in tempo reale 2-0 eh sì io ho appena l'apparco sono ah ma cazzo non ho preso la la BMW va bene va bene il mi piace che esoterà E' un fatto di legna di infine Eheheh Non ci credono no? Ha resettato l'audio nel crash Si, ha tozzo tutto Vabbè regà, vai uno scherzare, non basta, non ce la faccio Facciamo una bella giusta qua Adesso, in qualche parte Mi piace, è un'altra cosa E' un'altra cosa Basta, basta, basta Io non spiego la pasta C'è bene E' questa cosa Basta? Basta? E allora vado a farmi la challenge Vai, vado a fare la pasta La pasta Eccolo lì che è presa Iano Basta, hanno abbassato il record della Veneno Ancora di più? A 1,41,8 Di 5 secondi Di co? Che? 5 secondi Era a 1,46 Sì, vabbè, ma dai Ah no, non è vero, non è vero Era il world record a 1,41 E' a 1,45, comunque L'hanno abbassato in un secondo Vabbè, di un secondo ragionevole, cioè Forse E ancora non so come cambiarlo Sembra da pazzi, scusa Vado a prendere un bicchiere di vino Lo mischio con un po' di vodka E mi sento meglio Perché queste cose vanno Vanno curate da piccoli Sai che vino e vodka non l'ho mai provato Manco io ho molte facce Lo sapete come va Allora Dio cane che è questo Cazzo di crash e ti resetta tutto l'audio del computer Ma che cazzo è? Dai, guarda che pinda roba Cazzo Vaffanculo stavo ancora ridendo Non mi interessa Che cazzo C'è quello che vanno al negozio Ma decide di canterare oppure no? No A quanto pareva Niente canterare Eh, ho tutto noto Ogni tanto decide così Ecco Ah Sì 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 Vabbè raga Stavo un po' non ha negozio Com'è un po' di madera 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 Così questo è un padre Dio Un po' di madera Che c'è Ma Sì Quindi E' un po' di madera C'è un po' di madera E' un po' di madera Questa veneno fa cagare Questa veneno fa cagare Occhini in. Io non riesco a cambiare il personaggio, però no? Eh, devi andare a vedere come si è trattato il tuo cazzo di sparte e guardarti il tasto. Che cazzo l'ha a me toccato? Secondo me l'avevi toccato nel default e spalletta a destra, quindi. Ehm, che cazzo l'ha a me toccato? Ehm, che cazzo l'ha a me toccato? Secondo me l'avevi toccato nel default e spalletta a destra, quindi. Ehm, che cazzo l'ha a me toccato? Ehm, che cazzo l'ha a me toccato? come va fa? come va? oh pure il sottile che va a scendere non ci sono le volte sono le volte è difficile ma perché ti vuole il mercato? non ci trova perché ci trova però perché vedi se mi ricordo ma non penso che mi ricordo comunque non c'è non c'è non c'è no ma ma non c'è la scuola non c'è non c'è il fossil non c'è non c'è che cosa trolli ok personaggio inutile sarei vestita da troia ma non serve un cazzo ah così? una squaglia di due solo con le fanga? si perché fa schifo la roba che ho creato cosa è? phase 4 che potremmo in caso di fuga e l'altra è come potremmo si si chiama la scelta con 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 la scelta ah si esistita la domina 3x con la scelta che sta prendendo eh? ciao faccio inutile mi sa che qua perché io calcio basso e io calcio inutile con la scelta calcio c'è calcio mi sa che qua dai e adesso non fare figo perché stai vincendo una che ho preso due personaggi di merda no no prenditi pure quelli che vuoi vabbè ok ok l'ha detto ok l'ha detto tutti i testimoni ma perché mi devo sentire a 50 cent ogni volta prima di cominciare a partire dai minchia trovalo lì con l'appartamento a torino col frocio indico pure la via niente ricerca avversario non ti trovo guarda la mano destra guarda qua non ti trovo non ti trovo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.